Potenziamento dell'integrazione di alunni e studenti con background migratorio, incentivazione della prassi nell'ambito della formazione degli insegnanti, sostegno dei talenti e sviluppo della discussione in merito al calendario scolastico. Sono i punti individuati nei dieci incontri promossi dall'assessore provinciale alla scuola e cultura di lingua tedesca Philippa Hammer sul tema dialogo per la formazione, avvenuti in tutta la provincia altoatesina, da Bolzano a Dora, da Bressanone a Brunico, passando per Merano, Silandro e Vipiteno. Agli incontri, ritenuti dall'intendente scolastico Peter Horrigel, costruttivi e critici, hanno aderito un migliaio di persone. I partecipanti hanno avuto la possibilità di avanzare proposte, suggerimenti, portare idee per definire le necessarie condizioni quadro di carattere politico per il settore della formazione. Tutte le principali tematiche inerenti alla scuola sono state quindi raccolte in un opuscolo in lingua tedesca.